Euro Regione.news Aprilia Marittima Lignano Boat Show Dopo il crescente successo delle precedenti edizioni, il Lignano Boat Show torna nel 2024 in due weekend a ingresso gratuito, dedicati interamente alla passione per il mare e al tempo libero. La sesta edizione della fiera ha l'obiettivo di promuovere imbarcazioni da riporto e servizi, ancora per sabato 23 e domenica 24 marzo, dalle 10 alle 18 e 30. Come ci racconta Mauro Bordin, presidente del Consiglio regionale FWG. Lignano Boat Show è un evento che permette di far apprezzare la bellezza del mare, che è uno degli elementi che caratterizzano il Florianicia Giulia e la rendono una regione turisticamente attraente, portano tantissima gente, non solamente dall'Italia ma dal mondo, a venire nella nostra regione. E poi c'è la nautica, un settore fondamentale perché i posti barca nella nostra regione sono tantissimi, è una regione da questo punto di vista molto accogliente, è una regione che ha tanto da spiegare, da illustrare, e quindi è un settore su cui noi abbiamo lavorato anche in questi anni. Io personalmente nella scorsa legislatura ho portato in approvazione diverse norme sull'economia del mare a fine di sostenere questo settore, norme che tra l'altro finiranno in un attesto unico che la giunta regionale e il Solebini stanno elaborando e che arriveranno in consiglio nei prossimi mesi. Questa testimonianza è il fatto che siamo assolutamente convinti che sostenere la nautica significa sostenere l'economia e la forza della Friuli Venezia Giulia. A coloro che hanno organizzato questo evento, quindi gli operatori di Aprile Marittima, il Comune di Lignano Sabbiadoro, l'Isagest è in ringraziamento della regione, del Consiglio regionale di Friuli Venezia Giulia, perché il loro impegno consente di far apprezzare di più il nostro territorio, avvicinare tante persone interessate al mondo nautico, alla nostra regione e all'Ignano Sabbiadoro. Un altro tassello che dimostra come sia forte e energica la nostra regione. Per quanto riguarda l'estate 2024 abbiamo già dei dati, seppur provvisorici, che riguardano le prenotazioni e ci dicono che sarà un anno comunque importante in termini di presenze turistiche, sia per Lignano ma anche per grado. Iniziative come quella del Boccio sono iniziative che ci permettono di arricchire un già ricco palinsesto di eventi che sono assolutamente ricercati da parte degli amanti del mare e delle barche, ma non solo, quindi insomma massimo sostegno alle associazioni che si sono adoperate per la riuscita della sesta edizione da parte della regione Friuli Venezia Giulia. Da Udine per Euroregione News Marco Mascioli Euroregione Punto News